Ciao ragazzi, siamo venuti in questa nuova giornata di pesca, siamo qua in Aghi di Tuna, siamo a Piacenza, abbiamo messo un'ora e mezza per arrivare fino qua, il posto sembra molto bello, adesso facciamo qualche lancio, ci vediamo quando qualcosa bocca. Ragazzi, finisci con la giornata di pesca, abbiamo fatto molte catture, adesso vi farò vedere una foto, nel video ce ne sarà solo una perché la GoPro era scarica, è stata accesa per 4 ore e volevo dirvi che come state vedendo non escono molti più video sul canale perché con l'inverno andiamo sempre meno a pescare, comunque vedrete che a inizio estate aumenteranno i video, ci vediamo nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.